Credito per 40 milioni di euro a favore della FLAI, l'azienda partecipata da Forgital Italy, Trentino Sviluppo e altri soci privati con sede a Grigno. Il credito è finalizzato alla copertura dei fabbisogni finanziari derivanti dalla realizzazione del recente piano di investimenti e dal sostegno della forte crescita dell'attività prevista nei prossimi anni. Con questo accordo FLAI pone nuove basi di sviluppo per diventare un modello di eccellenza del made in Italy tecnologico. E' sempre molto interessante.